due vecchi amici passeggiavano nel giardino tutto fiorito dove l'allegra primavera ridestava la vita uno era senatore l'altro accademico di francia gravi entrambi dediti al piacere di ragionare secondo logica senza escludere la solennità persone di gran riguardo e di gran fama discorsero dapprima di politica scambiando pensieri non già sulle idee ma sugli uomini su certe personalità sempre facendo prevalere in questa materia la ragione dopo rievocarono alcuni ricordi poi tacquero continuando a passeggiare fianco a fianco inteneriti dal tepore dell'aria una grande aiola di viola ciocche spandeva aromi dolciastri e delicati fiori di mille specie e di mille colori diffondevano i loro odori nel venticello mentre un albero rivestito di grappoli gialli sparpagliava il suo polverio impalpabile un fiume d'oro che sapeva di miele e portava attraverso lo spazio il suo seme odoroso come una morbida cipria da profumiere il senatore si fermò aspirò la nuvola fecondante che fluttuava osservò l'albero annoso splendente come un sole i cui germi svolazzavano tutti intorno e disse e pensare che questi impercettibili atomi profumati creeranno la vita a centinaia di chilometri da qui faranno fremere le fibre e le linfe degli alberi femmina e produrranno esseri vegetali nascenti come noi uomini da un germe mortali come noi e che saranno sostituiti da altri esseri della stessa specie sempre al pari di noi poi ponendosi davanti all'albero radioso i cui profumi vivificanti si sprigionavano ad ogni brivido dell'aria il senatore aggiunse albero mio se tu dovessi fare il conto di tutti i figli che hai saresti in un bel guaio sai uno che ne fa facilmente li abbandona senza rimorsi e non se ne preoccupa più l'accademico disse facciamo così anche noi amico mio eh sì non lo nego se c'è quel senatore qualche volta li abbandoniamo ma almeno lo sappiamo la nostra superiorità consiste in questo l'altro scosse la testa no non volevo dire questo vedete caro non c'è uomo che non abbia qualche figlio ignorato uno di quelli che si dicono di padre ignoto fatti questi inconsciamente come fa quest'albero se dovessimo fare il conto delle donne che abbiamo posseduto saremmo imbarazzati come quest'albero a cui vi siete rivolto se dovesse enumerare tutti i suoi discendenti tra i 18 e i 40 anni conteggiando anche gli incontri occasionali i contatti di un'ora possiamo dire con buona approssimazione di aver avuto rapporti intimi con 200 o 300 donne ora amico mio potete essere certo di non averne fecondata almeno una e di non possedere in mezzo alla strada o in galera un mascalzone di figlio che deruba e uccide la gente onesta ossia noi oppure una figlia in qualche postribolo o magari se ha avuto la fortuna di essere abbandonata dalla madre cuoca in qualche famiglia e pensate poi che quasi tutte quelle donne che chiamiamo pubbliche hanno uno o un paio di figli di cui non conoscono il padre figli più avuti addosso a loro durante gli amplessi a 10 o a 20 franchi in ogni mestiere si tiene alla contabilità dei profitti e delle perdite quei rampolli sono le perdite della loro professione e chi li ha messi al mondo voi io tutti noi gli uomini definiti per bene sono le conseguenze dei nostri allegri pranzi tra amici delle nostre serate di baldoria di quelle ore in cui la nostra carne soddisfatta ci spinge ad accoppiamenti occasionali i ladri i vagabondi tutti i miserabili insomma sono figli nostri e per noi questo ha un peso maggiore che se fossimo figli loro perché anch'essi si riproducono quei furfanti vedete da parte mia ho sulla coscienza una brutta storia che voglio raccontarvi per me è un rimorso continuo anzi un dubbio continuo un'implacabile certezza che talvolta mi tortura in modo atroce a 25 anni avevo intrapreso insieme a uno dei miei amici oggi consigliere di stato un viaggetto in bretagna dopo 15 o 20 giorni di marce continue dopo aver visitato le cote di nord e una parte della finisterre arrivammo a duarnenè da qui in una sola tappa raggiungemmo la selvaggia punta di raz attraverso la baia dei tre passè e dormimmo in un villaggio qualsiasi col nome che finiva in off ma quando venne il mattino il mio compagno dovette rimanere a letto vinto da una strana spossatezza dico a letto per abitudine in quanto il nostro giaciglio era formato semplicemente da due fasci di paglia impossibile curarsi in quel posto così lo obbligai ad alzarsi e verso le 4 o le 5 del pomeriggio arrivammo ad odierne il giorno successivo stava un po meglio ripartimmo ma durante la strada fu preso da forti dolori e a stento potemmo raggiungere pont labè almeno lì c'era una locanda il mio amico si mise a letto e il medico fatto venire da kimpe constatò un febbrone senza diagnosticarne la causa conoscete pont labè ebbene è la cittadina più bretone di tutta quella bretagna bretanneggiante che va dalla punta d'uraz al mor bian della regione in cui si riscontra la vera essenza delle costumanze delle leggende delle usanze dei bretoni anche oggi quella contrada non è affatto mutata dico anche oggi perché ora purtroppo ci vado tutti gli anni un vecchio castello tuffa la parte inferiore delle sue torri in un grande stagno triste triste e intorno c'è qualche volo di uccelli selvatici esce di lì un corso d'acqua che le barche di piccolo capotaggio risalgono sino alla città e nelle strade strette dalle case antiche gli uomini portano un largo cappello il panciotto ricamato e le quattro giubbe sovrapposte la prima larga un palmo copre appena le scapole l'ultima si ferma giusto dove comincia il fondo dei calzoni le ragazze alte belle fresche hanno il petto compresso in un bustino di panno che forma una corazza la quale non lascia neanche indovinare il seno possente e martoriato hanno il capo acconciato in modo curioso sulle tempie due strisce ricamate a vari colori incorniciano il viso stringono i capelli che cadono morbidi dietro la testa poi risalgono ad ammazzarsi al centro del capo in una cuffia singolare spesso in tessuta d'oro o d'argento la domestica del nostro albergo avrà avuto al massimo 18 anni due occhi azzurri un azzurro pallido bucato dai due puntini neri delle pupille e i denti corti molto uniti tra loro che ella mostrava in continuazione quando rideva sembravano fatti per maciullare il granito non aveva una parola di francese parlava soltanto il bretone come la maggior parte dei suoi compatrioti intanto il mio amico non migliorava e sebbene non si fossero manifestati i sintomi di nessuna malattia il medico gli proibiva di partire prescrivendogli un riposo assoluto passavo dunque le giornate accanto a lui e la piccola domestica entrava continuamente per portare a me il pranzo a lui la tisana la molestavo un po so che sembrava divertirla ma non parlavamo naturalmente dato che non ci capivamo affatto ebbene una notte poiché ero rimasto fino a tarda ora presso l'infermo tornando nella mia camera incrociai la ragazza che andava nella sua era proprio davanti alla mia porta aperta allora bruscamente senza riflettere a quello che facevo più per scherzo che per altro la presi per la vita e prima che si riavesse dallo stupore l'avevo spinta e chiusa dentro mi guardava smarrita angosciata spaventata non osando gridare per paura ad uno scandalo paura ad essere scacciata prima di tutto dal padrone dell'albergo e forse poi da suo padre avevo agito gridando ma quando fu nella mia stanza mi invase il desiderio di possederla fu una lotta lunga e silenziosa una lotta corpo a corpo alla guisa degli atleti con le braccia tese contratte contorte la respirazione agitata la pelle madita di sudore si difendeva coraggiosamente e a volte urtavamo un mobile una parete una sedia allora sempre a vinti restavamo immobili per un attimo nel timore che il rumore avesse svegliato qualcuno poi ricominciavamo la nostra lotta accanita io attaccandola lei resistendo estenuata e l'alfine cadde e io la presi brutalmente per terra sul pavimento non appena si fu rialzata corse alla porta tirò il chiavistello e fuggì i giorni seguenti la incontrai appena non lasciava che l'avvicinassi poi il mio compagno guarì e dovendo poi riprendere il viaggio la sera precedente il giorno della nostra partenza a mezzanotte la vidi entrare scalza in camicia nella mia camera dove mi ero appena ritirato mi si gettò nelle brazza mi strinse appassionatamente poi sino all'alba mi baciò ma carezzò piangendo singhiozzando dandomi insomma tutte le dimostrazioni di tenerezza e di disperazione che una donna può dare quando non sa una parola della nostra lingua otto giorni dopo avevo dimenticato quell'avventura frequente quando si viaggia poiché le serve d'albergo sono generalmente destinate a distrarre così i viaggiatori e per trent'anni non ci pensai più né più tornai a Pont-l'Abbè ebbene nel 1876 mi capitai per caso durante un viaggio in Bretagna intrapreso per documentare un mio libro e per conoscere meglio quei paesaggi non mi sembrò mutato il castello bagnava sempre le mura grigiastre nello stagno all'entrata della cittadina e l'albergo era lo stesso benché restaurato rimesso a nuovo con un aspetto più moderno entrando fui ricevuto da due ragazze bretoni di 18 anni fresche e gentili corazzate nello stretto panciotto di stoffa in cuffia d'argento e sulle orecchie le grandi strisce ricamate erano circa le sei di sera mi misce a tavola per pranzare e poiché il padrone stesso si affacendava a servirmi la fatalità senza dubbio mi indusse a domandare avete conosciuto gli antichi proprietari trent'anni fa ho passato qui una decina di giorni vi parlo di un'epoca lontana e gli rispose erano i miei genitori signore allora gli raccontai in quale occasione mi fossi fermato e come ero stato trattenuto dall'indisposizione del mio compagno non mi lasciò terminare oh me ne ricordo perfettamente allora avevo 15 o 16 anni voi dormivate nella stanza in fondo e il vostro amico in quella che adesso è la mia che dà sulla strada soltanto allora mi si riaffacciò vivissimo il ricordo della camerierina domandai ricordate una gentile servetta che era allora con vostro padre e che se ben ricordo aveva dei bei occhi e dei bei denti rispose certo signore è morta di parto non molto dopo e tendendo la mano verso il cortile dove un uomo magro e zoppo spazzava il letame soggiunse quello è suo figlio mi mise a ridere non è bello e non somiglia affatto a sua madre l'ha preso senza dubbio dal padre l'albergatore riprese può darsi ma non si è mai saputo chi fosse è morta senza dirlo e qui nessuno sapeva che avesse un amante è stata una vera sorpresa quando si seppe che era incinta nessuno voleva crederlo ebbe una specie di brivido sgradevole una di quelle sensazioni penose che sfiora nel cuore come l'avvicinarsi di una grave sciagura e tornai a guardare l'uomo del cortile ora andava ad attingere acqua per i cavalli e portava i due secchi zoppicando con uno sforzo doloroso della gamba più corta era stracciato schifosamente sporco con lunghi capelli gialli così arruffati che gli pendevano sulle guance come corde l'albergatore soggiunse non vale molto e l'abbiamo tenuto nell'albergo per carità forse sarebbe stato diverso se l'avessero educato come tutti gli altri ma che volete signore senza padre senza madre senza mezzi i miei genitori hanno avuto pietà del bambino ma capirete non era il loro io non dissi nulla e dormì nella mia antica stanza e tutta la notte pensai a quell'orribile mozzo di stalla ripetendo a me stesso eppure se fosse mio figlio avrei dunque ucciso la ragazza e procreato quest'essere dopo tutto era possibile risolsi di parlare a quell'uomo e di conoscere esattamente la data della sua nascita una differenza di due mesi avrebbe potuto dissipare i miei dubbi il giorno dopo lo feci chiamare nella mia camera ma nemmeno lui parlava francese d'altronde sembrava non capisse nulla e ignorava assolutamente la proprietà che una delle serve gli domandava per mio conto stava di fronte a me con un'area idiota rigirando il cappello con una delle sue zampe nodose e nauseanti ridendo stupidamente con qualche cosa dell'antico riso materno nell'angolo delle labbra e nell'angolo degli occhi ma il proprietario sopravvenuto andò a cercare l'atto di nascita del poveretto questi era venuto alla luce otto mesi e venti giorni dopo il mio passaggio a Pont-l'Abbè poiché mi ricordavo perfettamente d'essere arrivato a Lorient il 15 agosto l'atto portava la dicitura padre ignoto la madre si era chiamata Jean Kerradec allora il mio cuore si mise a battere a precipizio non potevo più parlare tanto mi sentivo soffocato e guardavo quel bruto i cui lunghi capelli gialli sembravano un letame più sordido di quello delle bestie e miserabile intimidito dal mio sguardo non rideva più voltava la testa cercava ad andarsene errai tutto il giorno in riva al piccolo corso d'acqua riflettendo dolorosamente ma a che serviva riflettere nulla poteva rassicurarmi per ore ed ore pesai tutte le ragioni buone o cattive pro e contro la mia probabile paternità estenuandomi in supposizioni inestricabili per tornare incessantemente alla stessa orribile incertezza poi alla convinzione ancora più atroce che quell'uomo era mio figlio non potei pranzare e mi ritirai nella mia stanza per un pezzo non riuscii a dormire poi il mio sonno fu pieno di visioni insopportabili vedevo quel sozzo cafone che mi rideva in faccia mi chiamava papà poi si mutava in cane e mi mordeva i polpacci e per quanto scappassi mi seguiva sempre e invece da abbaiare parlava mi ingiuriava poi comparve davanti ai miei colleghi dell'accademia riuniti per decidere se io fossi veramente il suo padre e uno d'essi esclamava è indubitabile ma guardate come gli somiglia infatti mi accorgevo che quel mostro mi somigliava e mi svegliai con quel pensiero piantato nel cranio e quel folle desiderio di rivedere l'uomo per decidere se avessimo qualche lineamento comune oppure no lo raggiunsi mentre andava a messa era una domenica e gli regalai cinque franchi scrutandolo ansiosamente si rimise a ridere in una maniera ignobile prese il denaro poi nuovamente imbarazzato dal mio sguardo scappò dopo aver farfugliato una parola quasi inarticolata che indubbiamente voleva dire grazie la giornata trascorse per me nella stessa angoscia della vigilia verso sera feci chiamare l'albergatore e con molte precauzioni abilità e astuzie gli dissi che mi interessavo a quel povero essere così abbandonato da tutti e privo di tutti e che volevo fare qualcosa per lui ma l'uomo replicò oh signore non ci pensate quel disgraziato non vale nulla e ne avreste soltanto delle noie io lo utilizzo per pulire la scuderia ed è tutto quanto può fare per questo gli do da mangiare e lo lascio dormire coi cavalli non gli occorre altro se avete un vecchio paio di calzoni regalateglielo ma fra otto giorni sarà a brandelli non insistetti riservandomi di riflettere lo sciagurato l'incasò a sera orribilmente ubriaco per poco non incendiò la casa presse a zappate il cavallo e finalmente si addormentò nel fango sotto la pioggia grazie alle mie elargizioni e il giorno dopo mi pregarono di non dargli più denaro l'acquavite lo rendeva furioso e non appena aveva due soldi in tasca se li beveva l'albergatore soggiunse dargli del denaro significa volere la sua morte quel uomo non ne aveva avuto mai assolutamente mai salvo qualche centesimo buttato come mancia dai viaggiatori e non conosceva altra destinazione per quel metallo se non l'osteria così passai ore e ore nella mia camera con un libro aperto che pareva leggessi ma non facendo altro che guardare quel brutto mio figlio cercando di scoprire se avesse qualche cosa di me a forza di cercare mi pareva di riconoscere qualche linea uguale nella fronte alla radice del naso e presto fui convinto di una somiglianza dissimulata dal vestito differente e dalla sua schifosa capigliatura ma non potevo trattenermi più a lungo senza destare sospetto e partii col cuore spezzato dopo aver lasciato all'albergatore un po' di denaro per alleviare l'esistenza del suo garzone ora da sei anni vivo con questo pensiero con questa orrenda incertezza con questo dubbio spaventoso e tutti gli anni una forza invincibile mi spinge a Pont-l'Abbè tutti gli anni mi condanno al supplizio di vedere quel brutto di garzone nell'etame di immaginarmi che mi assomiglia di cercare sempre in vano d'essere utile e tutti gli anni ritorno qui più indeciso più torturato più ansioso ho cercato di farlo educare è irrimediabilmente idiota ho cercato di rendergli la vita meno penosa è irrimediabilmente alcolizzato e spende per bere tutto il denaro che gli si dà è capacissimo di vendere gli abiti nuovi per procurarsi l'acquavite ho cercato di impietosire per lui il suo padrone sempre offrendo del denaro per chi gli usasse qualche riguardo l'albergatore che ha finito per stupirsi mi ha risposto molto giudiziosamente tutto quello che farete per lui signore non servirà che alla sua rovina bisogna tenerlo come un prigioniero non appena ha tempo o un po' di denaro diventa pericoloso se volete fare del bene non mancano o no i fanciulli abbandonati ma sceglietene uno che risponda ai vostri sacrifici che cosa replicare se lasciassi trasparire uno solo dei dubbi che mi tormentano quel cretino certo diventerebbe furbo per sfruttarmi per compromettermi per perdermi mi griderebbe papà come nel mio sogno e mi dico che ho ucciso la madre e rovinato questo essere atrofizzato larva di una scuderia nata e cresciuta nell'etame quest'uomo che ha levato come gli altri sarebbe stato uguale agli altri non potete immaginare la sensazione strana confusa e intollerabile che provo di fronte a lui pensando che è uscito da me che è cosa mia per quel vincolo intimo che lega il figlio al padre che grazie alle terribili leggi dell'eredità è me stesso per molte cose per il sangue e per la carne e che ha in sé persino gli stessi germi di malattie gli stessi fermenti di passione ho senza posa un implacabile e doloroso bisogno di vederlo la sua vista mi fa soffrire orribilmente e dalla mia finestra laggiù lo guardo per ore ed ore nettare e scarriorare gli escrementi delle bestie ripetendomi è mio figlio e sento a volte una intollerabile voglia di baciarlo non ho mai nemmeno toccato la sua mano lercia l'accademico tacque e il suo compagno uomo politico mormorò già veramente dovremmo occuparci un po' di più dei bambini che non hanno padre una folata di vento attraversando il grande albero giallo ne scosse i grappoli avvolse di una nuvola odorosa e fine i due vecchi che la respirarono a pieni polmoni e il senatore soggiunse è bello davvero avere venticinque anni e persino fare dei figli così grazie a tutti